Ciao velini, benvenuti e bentornati sul mio canale, il video di oggi è il mio primo What I Eat In A Day quindi un video in cui vi mostro tutto quello che vado a mangiare nell'arco di una giornata Ovviamente siamo in estate, quindi questa è la mia versione summer di quello che vado a mangiare e spero che questa tipologia di video, un po' diversa dal solito, vi possa piacere e vi possa dare tante idee per dei pasti gustosi, leggeri, ma soprattutto sani Ma non mi sto a dilungare troppo, vi lascio al video, ma come sempre, prima di lasciarvi a tutto quello che mangio durante la mia giornata vi ricordo di iscrivervi al mio canale per sostenerlo e di attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovo video Come prima cosa vi mostro la mia colazione tipo, il pasto più importante della giornata che mi piace fare con fette biscottate integrali, con della confettura alle ciliegie o made Poi bevo del succo d'alana e cosa più importante, il mio Activize, senza il quale non posso proprio affrontare le mie giornate È un integratore alimentare e un attivatore metabolico della linea Fitline di PM International Ve ne ho parlato meglio sulla pagina Instagram, quindi dateci una sbirciata, trovate il link qui sotto in descrizione Ma ora passiamo al pranzo e vi mostro un piatto completo che mi piace preparare spesso Un pochè o una bolle, come preferite, con riso cirasci, gamberi che faccio saltare con della salsa di soia Avocado che condisco con lime e semi di sesamo E poi le mie carote che preparo con due carote grosse e condisco con del succo di limone, maionese, salsa di soia, olio di sesamo e dei semi di sesamo Questo è un piatto che davvero adoro mangiare e che preferisco mangiare il mezzogiorno Anzi alla metà del pomeriggio mi viene sempre un po' di pane E cerco di preferire puntini sani come lo yogurt o la frutta O perché no, tutti e due insieme, come in questo caso E insieme bevo anche un bel bicchienone d'acqua, che fa sempre bene Per cena oggi ho preparato due dei miei piatti preferiti La tartare di manzo, condita con un cucchiaino d'olio, extravergine d'oliva, succo di limone e del prezzemolo piccato fresco Oltre alla tartare, un altro piatto che adoro è l'avocado toast Che preparo con del pane integrale, crema di avocado Che preparo con avocado schiacciato, lime e semi di sesamo Sopra l'avocado toast poi questa sera appoggio un bel uovo al tegamino Benveni e questo è tutto quello che vado a mangiare durante l'arco di una giornata Come vedete non sto a impostarmi calorie, quantitativo di cibo da mangiare Generalmente vado a fare 4-5 pasti al giorno Cerco di bere molta acqua E soprattutto cerco di variare il più possibile la mia dieta Spero che questo video un po' diverso da solito vi sia piaciuto O perlomeno vi abbia ottenuto un po' di compagnia Se così fosse lasciatemi un bel pollicino in su E fatemi sapere qui sotto nei commenti Quali di questi piatti è il vostro preferito Ricordatevi di iscrivervi al mio canale per sostenerlo Io vi mando un mega bacione Noi ci vediamo come sempre ogni martedì e ogni venerdì alle 15 qui sul mio canale Ciao bellini, a presto!